Intro Bentrati ragazzi in questo nuovo video qui è verde E oggi siamo in un video molto particolare Perchè inizio la serie sul rainbow Praticamente E' successo una cosa Io ho registrato un video Mentre Giuseppe non lo sapeva Perchè prima ho avviato la partita Personalizzata Per sbaglio ho detto facciamo 1v1 E l'ho personalizzata Che cazzo dicendo E ho registrato mentre lui non lo sapeva E ovviamente lui continuava a insinuare Che io ero noob bla 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 Infatti vedete nel video Ah mi scuso pure per eventuali voci di mio padre Di mia sorella eventuali rumori Se la qualità audio non è proprio la massima E perchè Di solito quando registro in un video Mi accorgo di tante cose Tipo la porta che si la devo chiudere La finestra chiusa Se ci sono parenti in casa Questa volta non l'ho fatto perchè diciamo che E l'ho registrato proprio a casa sul momento Quindi Vi lascio il video E si usa la recluta? Si ma quanto finiti? E' buona Per vedere quanto pinghi te Devi guardare quanto pinggo io 84 Ma tu puoi libera pinghi 84 Si ma prima pingavamo 130 Perchè tu ti guarda Ti ho visto che l'osso non pinga L'osso non collegare Non pinga Ma quelli che fanno in partita con lui Si che lo fanno Dai non so dove è l'obiettivo Ancora 10 secondi Avete sentito? Mi ha detto Sei Nabbo Ti sento Ah ma non hai messo le scritte Non hai messo nei punti nelle scritte di niente? No Però io ti sento Ah 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 Usi frost quindi Cattivo Non si usa frost Ho trovato l'ostaggio Quindi ti sei No Ah Perché se 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 Ma entro pure no Ah porco Giuda Ehi carotacce Io pensavo che eri un soprammobile Io pensavo che eri un soprammobile però Non puoi dire che pensavo fosse un soprammobile Minchia mi ha picchiato un colpo Minchia mi ha picchiato un soprammobile Non posso essere un soprammobile Non c'è Gianluca Poi tu puoi farmi morire di risata Allora voglio essere un soprammobile Però non perdi Eri un soprammobile Ero un soprammobile Ero una lampada Ero una lampada Ero Ero una lampada Io dovrei stare attento alle tue trappole No Ma Non so Dovrei Non so se mi ho così tanta Non so se mi ho bisogno di cercare A queste trappole Ma io non so di certo la persona che te lo dice Mi sembra tutto Però potresti dirmi dove sei per esempio Sì certo perché sono scemo Ma non ci credo Ma che lancio un fatto Dove rivederlo Ma come faccio un laccio ripeto sul tetto Sei rimasto triggerato Però se hai baggato Blackboard Eh sì se hai baggato Blackboard Ora vengo Ah un pittone eh Madonna Madonna Per l'altro tu sei Madonna madonna la voglio di sparare lo calmi non so quanto è ah ti sento oh ma dove va dove oh ma gli ho sparato come è possibile quanti vita avevi ma non ti dico quante vita avevi madonna mi è beccato lo scudo tutta la vita come va a far rompere lo scudo boh ma l'ho ritato prima no ma perchè hai messo in questo modo qua perchè è molto più bello no non lo è veramente perchè non sei niente appunto dovete localizzare lo stagio è in modalità esperto non è in modalità esperto è in modalità non puoi fare niente perchè non è in modalità esperto no dai dov'è lo stagio ti sento frate è in modalità esperto io no però se aiuto oh già ma di studio fino a eh ma cosa fai in un studio no no si sta bene non è giusto 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 no ma cosa ma cosa i proietti erano strani vedi no i proietti erano strani ti hai preso un colpo vero? ti ho fatto headshot più o meno secondo il gioco ma cosa cosa i proietti non sono cioè hai voi il caricatore e voi il caricatore non è che ti carichi il carico e il proiettivo no ti cambia caricatore si lo so è in modalità esperto fidati è il realismo tattico non è realismo è esperto la stessa cosa no ma che schifo 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 posizione ossaggio comprometta poi hai dichiarato a cambio speratore tipo io non so manco se ti puntavo non c'è niente 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 no ma perché hai chiesto cosa come oddio come è tutto cosa hai fatto hai fatto il peccato me ma cosa ma quando stai guardando ma tu ti conosce comunque stare camperato non è che vado più tardi anche voi ognuno ha la sua tattica di gioco oh ognuno ognuno ha la mia ognuno che mi ha visto così tanto perro che ognuno che 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 ma madonna guarda qui che colpo hai visto tantissimo headshot ma cosa ma quando ma madonna ma cosa ma non puoi capire hai detto sparato in testa l'anel rituale comunque io ho vinto perchè sono arrivato a tre eh no si arriva a si vince si vince chi arriva a tre comunque mi trovo meglio col reflex non con l'acog oh non è tra cinque minuti mi trovo meglio con il caffè ma il caffè non ha lui non ha quello capito è meglio il reflex voglio il reflex oppure il mirinolografico eh non sono quelle diverse cioè non sono cose molto difficili in attacco non è che vanno bene cioè ci sono quelle in difesa perchè appunto in difesa tu motivamente hai sconti ravvicinati in attacco c'era molto molto lontani per il punto di rischio di uccidere ma lontano non è che tu puoi puoi sperare di poter dov'è che sei eh piccolo io vorrei riuscire a sapere come hai no ah so dove sei perchè vedo un jammer ah ha perso il drone però so dove sei auguro toucher sì camerà bambini niente no 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 si che 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 non mi hai sentito vero ti prego dimmi che non mi hai sentito guarda che sono io sono dappertutto a parte che in camera bambino io so dappertutto a parte che in camera dei bambini io sono dappertutto in cucina se siete lanciando il mp sperando cosa guarda che stai mettendo così tu di uccidermi di uccidermi non è che mi lancia il mp con un po' di mi uccider ma cosa cosa come si deve saperlo ci ho sentito ma mi hai detto cosa ti ho sentito che ti sei mosso ho vinto che hai detto che hai detto scusa che avevi detto eh che facevi il culo rimanendo camperati in un punto tutta la partita eh 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 ma che è vabbè devo andare devo andare a mangiare tutto il tempo a campionato non fare niente eh vabbè chi vince chi vince vabbè 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 vabbè